Si è mai stato da un primo appuntamento ma poi la ragazza è sparita? La risposta a questa domanda è sicuramente sì e nel video di oggi vediamo dove hai sbagliato. Prima di cominciare però ti ricordo una cosa importante, se ti interessa la seduzione ho anche un canale telegram chiamato Gio di Lorenzo, dove ti do informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non ti posso dare. Vieni mi a trovare anche lì, ti lascio il link in descrizione. Errore numero uno, parlare troppo di te. È sicuramente vero che dovrai fornire alcune informazioni sui te ed è molto importante che queste siano informazioni che sono solo volte a farti apparire di valore ai suoi occhi, ma la maggior parte del lavoro lo deve fare lei. Semplice psicologia, le persone amano parlare di se stesse ma non solo. Questo è il vecchio tra virgolette trucco degli psicologi, dicono molto poco e fanno parlare te e bingo, si crea questa sensazione artificiale per cui siete in rapport, benché è solo nella sua testa. Tu pensi in realtà che lei dovrebbe essere lì per conoscerti, ma queste sono stronzate, blue pill. La verità è che le persone sono egoiste e quindi vogliono parlare di se stesse. Il tuo lavoro è farla parlare e poi ovviamente escalare, ma ne parliamo fra un attimo. Quindi la regola è semplice, fai domande aperte a lei e quando apri la tua bocca ti dai semplicemente valore in modo conciso. Errore numero due, parlare di argomenti controversi che possono portarla a capire che non siete un match. Un esempio fra tutti è ovviamente la politica, in quanto ti può portare immediatamente da un uomo che lei sperava che la trombasse ad uno con cui non vuole avere mai più niente a che fare. Ed in generale evita come la peste qualsiasi tipo di dibattito, in quanto andrà a finire molto male. Il tuo lavoro non è avere ragione, ma mantenere l'atmosfera leggera e divertente perché questa è quella che conduce al sesso. Te la faccio semplice, dibattere con lei la renderà più secca e non più bagnata. Magari se poi diventa una cosa più a lungo termine potete pure parlare di argomenti controversi. A quel punto almeno però ci avrei fatto sesso. 3. Cercare di diventare sessuale troppo presto verbalmente e fisicamente. Mentre alcune rare volte questo funziona e se trovi la ragazza giusta, quando tra l'altro sei in grado di capirlo, fallo sicuramente, la maggior parte delle ragazze hanno bisogno di essere socialmente riscaldate. Il modo migliore per spiegarti cosa fare, anche se difficile da capire se sei ancora all'inizio, è questo. Andare lentamente per andare il più velocemente possibile. Il punto è questo. Ogni volta che incontri una resistenza ti tocca rallentare e rallentare fa perdere più tempo che andare piano ma sempre verso l'obiettivo. Quindi idealmente tu vuoi fare le cose giuste e procedendo lentamente non trovare alcuna resistenza, il che, anche se sembra un paradosso, fa andare le cose più velocemente. 4. Non fare la tua mossa. In gergo lo definiamo commettere l'errore di rispettare troppo la ragazza. Inizialmente un principiante deve cercare di chiudere i giochi in fretta per capire cosa è possibile fare e cosa no. Col tempo diventerà più calibrato ma la fisicità non può mai mancare ad un appuntamento di successo. Esisteranno al mondo ragazze che magari non si sentono confortevoli col rompere la barriera fisica al primo appuntamento? Magari anche sì e le lasciamo volentierissimamente a qualcun altro. Col tempo ed esperienza impaerai quasi al 100% a filtrarle come la peste in modo da non finirci ad un primo appuntamento in primo luogo e da non perdere tempo con loro. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link qui a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.